Nuovo richiamo diato a Sei Toscana per i disservizi nella raccolta rifiuti. I comuni con maggiori disagi sono quelli dell'Arettino e del Senese. Le segnalazioni sono arrivate da Arezzo, Cortona, Castiglionfiorentino, Lucignano, Marciano della Chiana, Foiano, Asciano, Montepulciano, Rapolano Terme, Chianciano e Gavorrano. L'autorità ha dunque nuovamente sollecitato il gestore ad un pieno ripristino degli standard di servizio in tutto il territorio, con particolare riferimento alle situazioni che le sono state formalmente segnalate. Nel merito della Forza Lavoro, l'autorità ha precisato al gestore che la programmazione dei servizi di raccolta può già essere adeguatamente condotta sulla base dei piani di riorganizzazione dei servizi che da tempo sono stati approvati dall'Assemblea dei Sindaci di Ato Toscana Sud e che quindi costituiscono espressamente componenti del piano di ambito necessario a Sei Toscana per programmare le assunzioni.